Ma vi altri conosci che è amata da Alicia Pollock? Mi si e guardo anche i suoi programmi, qui che parla di bestie e di posti distanti e strani. Ma l'ultima che aveva fatto mi non capisco. Adesso andiamo a fare i sgrassi del Carrefour. E c'era sotto il nylon e i bivy, te che dito. E ora, per far vedere che non si fa, ci andiamo a fare il mare. Come se servisse a qualcosa. E io che voglio mangiare moecche? Ogni tanto la gente si sveglia la mattina, si fa su e fa morire gli animali, sperando di fare del bene. Per me puoi morire chi che vuoi. Basta che non vuoi morire il porseo, che vado a fare salami e ossetti. Sennò per correre il trio finché goffia. Ti dici a moglie di morire gli animali che non ti conosci per fare la figa. A me sembra che tutti i programmi che ti hai condotto non ti sia servito a un cazzo. Ti parli più chi smilicia che una persona che piace ai besti. Ti sta sul tuo che è lanciare messaggi che pensa la gente che è buona a farlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.